Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo su recensioni Apple giochi questa è la recensione di Blabbles Blabbles è un wargame, come potrebbe essere Razzle, quindi un gioco con le parole completamente diverso da Razzle, sviluppato da una start-up di tre giovani romani che si chiama Callisto Game, il loro sito è www.callistogame.com è un gioco ben fatto, molto divertente e adesso andiamo a vedere come si gioca come abbiamo accennato prima, Blabbles è un wargame che come state vedendo dalle immagini, consiste nel trascinare le lettere che sono contenute nelle bowls nella barra compositrice, per formare parole di senso compiuto il valore delle parole in punti può variare a seconda dei bonus, che principalmente sono due il bonus two word, che raddoppia il valore della parola è il bonus two letter, che raddoppia il valore della lettera per capire se una bowls contenente la lettera ha un bonus dovete guardare i pallini che stanno appunto sopra i bowls e nei pallini appunto è elencato di che bonus si tratta se si tratta di two word o se si tratta di two letter mentre le parole composte da lettere dello stesso colore ne triplegano il valore infatti se noi creiamo una parola formata da sole lettere gialle di colore giallo varrà il triplo di una parola formata da lettere di colore giallo mischiata a lettere di colore blu e poi viceversa ovviamente in Blabbles se una parola non va bene può essere eliminata per eliminare una parola possiamo premere il tasto rosso che si trova a sinistra in basso sullo schermo oppure fare uno swipe verso destra invece se vogliamo eliminare l'ultima lettera di una parola basterà prendere questa lettera e trascinarla nell'elenco delle parole in questo modo l'ultima lettera della parola verrà eliminata invece quando la parola va bene si numererà il tasto verde che troviamo in basso a destra sullo schermo e noi pigiando questo tasto verde potremo dare l'ok alla parola e appunto prendere i punti ok ragazzi come vedete abbiamo vinto 328 a 90 come state vedendo sopra ospite è vinto poi vi spiegavo perché esce appunto ospite comunque qui c'è tutto l'elenco delle parole che abbiamo trovato e qui l'elenco delle parole che ha trovato il nostro avversario che sono gli sviluppatori sono quelli che ci hanno contattato per fare questa recensione quindi meglio che appaiono nel video e fa più figo comunque abbiamo qua in basso i bonus che abbiamo preso ho preso 2 words 6 volte 2 letters 4 volte ho fatto 6 parole con tutte le lettere gialle 6 parole con tutte le lettere azzurrine e loro invece hanno fatto appunto questo punteggio adesso non vi sto a leggere se no viene troppo lungo comunque questa è appunto come appare la schermata quando finiamo la partita e quindi adesso torniamo al menu principale e andiamo avanti con la recensione ok ragazzi siamo nel menu principale adesso guardiamo le varie modalità login facebook non ve lo posso far vedere per motivi di privacy poi perché l'ipad non è mio comunque potremmo loggarci con facebook se ci lo chiamo ed entriamo in amici di facebook troviamo appunto due menu uno che contiene gli amici che hanno bla balls e uno che contiene gli amici che non hanno bla balls sui amici che non hanno bla balls ci saranno di fianco ai nomi dei più per poterli invitare a scaricare l'applicazione per poi sfidarli mentre gli altri amici che hanno bla balls possiamo sfidarli direttamente ok ragazzi adesso vi mostro le varie modalità avversario casuale è quella con cui vi ho fatto vedere come si gioca quindi si gioca online contro un altro avversario e poi alla fine ci verrà detto il nostro punteggio, il suo punteggio si vedrà chi ha vinto e appunto ci verranno detti i bonus come avete visto prima allenamento è praticamente simile all'avversario casuale solo che giochiamo da soli alla fine ci verrà dato solo il nostro punteggio e solo i nostri bonus che abbiamo trovato possiamo giocarci per allenarci e poi possiamo anche battere i nostri record personali ok ragazzi adesso andiamo nel menu opzioni qui abbiamo le impostazioni abbiamo gli effetti sonori che possono essere disattivati o attivati il volume musica che purtroppo non potete sentire comunque si può abbassare o alzare poi abbiamo la velocità allenamento che è la velocità con cui le parole si muovono da destra verso sinistra nella modalità allenamento che può essere cambiata poi qui abbiamo il tutorial che spiega più o meno quello che vi ho detto io prima comunque è molto carino questo effetto delle pagine che si possono girare come ci pare mi piace molto, sono stati molto bravi complimenti poi abbiamo informazioni su Black Balls vi leggo un po' i nomi degli sviluppatori allora appunto sviluppato da Callisto il loro sito è www.callistogame.com credits game designer Andrea Valesini iOS developer Francesco Simonazzi Android developer William Visconi e sound designer Jacopo Vanna quindi è completamente italiano disponibile anche per Android questo invece è l'icona che vedete in alto a sinistra non ve la posso far vedere perché ci sono dei nomi e dovrei coprirli tutti comunque è una classifica generale dei migliori in questo gioco quindi dei più bravi in questo gioco e appunto c'è una classifica in ordine di punteggio dal più alto al più basso ok la recensione di Black Balls finisce qui vi ringrazio per aver seguito questo video vi consiglio vivamente questo gioco perché è fatto molto bene faccio i complimenti ancora agli sviluppatori e non glielo faccio perché mi hanno chiesto fare la recensione ma glielo faccio sinceramente comunque vi ricordo anche che la recensione è appogliata al gruppo Whatsapp se volete entrare in questo gruppo potete inviarci una domanda su Ask che non verrà pubblicata col vostro numero un messaggio privato su Facebook con il vostro numero o un messaggio privato su Youtube con il vostro numero vi ringrazio ancora per aver seguito questo video e